L'oroscopo di Astra Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo, stoppiamo quali sono i suggerimenti delle stelle per martedì 27 ottobre. Ariete, i tuoi progetti di lungo periodo sono sensati, vale la pena approfondirli. Le decisioni immediate invece con Mercurio, che ancora ti fronteggia, sono ad alto rischio di errore, in amore a prevalere e la voglia di stabilità e sicurezza. Toro, la luna nel segno può cambiare il volto della tua giornata. Alla determinazione e all'ottimismo, oggi puoi abbinare un istinto che funziona e un estro speciale negli affari di cuore. Il tuo lato romantico è in onda. Gemelli, può salvarti l'attenzione e la rapidità di reazione, perché col Marte, Venere, Giove e Saturno che remano contro, non puoi sperare di avere vita facile sul lavoro, negli affari e persino in campo sentimentale. Cancro, di buono c'è che non reagisci d'istinto alle insidie della giornata. Una maggiore riflessione, però, potrebbe spalancarti la via del successo. Perché non ci provi? Venere e la luna rendono più intrigante la serata in coppia. Leone, le complicazioni sono all'ordine del giorno. La luna che rema contro non ti facilita il compito. C'è che l'energia non è quella solita e che anche la tua convinzione ha visto momenti migliori. I venti di passione si sono placati. Vergine, l'ottimismo non è fuori luogo. Tutto in questo periodo può andare secondo le tue migliori attese. Questione di fortuna, ma non solo. Anche la tua abilità contribuisce al successo annunciato. Amore ed Eros sono ok. Bilancia, un altro tassello che va posto ora che la luna ha tolto il disturbo. È un vantaggio per la serenità d'animo e la razionalità dei pensieri. Non sbagliare un colpo è la possibilità che può offrirti mercurio nel segno. Scorpione, postarci oggi uno scatto d'ira, una decisione presa a distinto. Con la luna che ti fronteggia oggi il rischio che corri è di non controllare le emozioni e di lasciare troppo spazio alla foga nelle questioni di cuore. Sagittario, prove di maturità in corso d'opera. Il lavoro di Saturno nel segno comincia a dare frutti importanti. È un bel da fare invece per migliorare le prospettive nel lavoro o in campo economico. In amore serve più pazienza. Capricorno, non è solo una questione di buona sorte se le tue probabilità di successo sono elevate. Se mai è la continuità d'azione il marchio di fabbrica della tua personalità. Una volta addentato l'osso non lo molli più, anche in amore. Acquario, le energie in calo non sono l'unica difficoltà della giornata. C'è l'eccesso di foga a tenerti in scacco e a ralentare la tua azione. I dispetti di luna e sole non promettono niente di buono. Anche in amore oggi c'è agitazione. Pesci, la strada resta in salita, ma almeno oggi è un po' meno ripida del previsto. I buoni uffici di sole e luna sono come una manna dal cielo. L'energia può risalire e il buon umore può tornare a splendere. Luce e ombre in amore. Ed è tutto per questo appuntamento con l'oroscopo di Astra. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.